Buonasera, un caro benvenuto a voi tutti. Cominciamo questa serata dedicata al film documentario Mondo piccolo di cui proiettiamo una parte in occasione della esposizione di Paolo Simonazzi Mondo piccolo. Questa parola guareschiana è l'incipit di un suo lavoro antologico molto esteso di cui la mostra che abbiamo allestito e aperto qualche settimana fa e che rimarrà aperta fino al 30 di marzo è una siloge, una parte, un catalogo di Alemandi molto ricco e bello. Insieme ad esso per chi lo volesse c'è appunto questo film documentario Mondo piccolo molto molto interessante. Ne proietteremo una parte questa sera e poi inizieremo un dialogo con i nostri ospiti che sono Michele Brambilla, direttore della Gazzetta di Parma, che salutiamo qui in prima fila, con Denis Curti che è il curatore della mostra, importante critico fotografico di Milano e il nostro autore Paolo Simonazzi che è anche l'ideatore di questo film documentario. È un film documentario basato sulle sue immagini ma a cui lui ha partecipato anche come indicazione di luoghi, il territorio documentario della sua ricerca artistica è vasto, riguarda diversi paesi di questo grande luogo però come dicono alcuni testimoni nel film, devo dire la verità che non so se il tratto che proietteremo riporta queste parole, che cos'è il mondo piccolo? Ognuno dà una risposta, quella di Giovannino Guareschi è un punto nero come un puntino che si sposta in ogni luogo e quindi mi pare che giustamente una signora dice un luogo dell'anima. È questa anima che traspare nei paesaggi, negli scorci, nelle stazioni, però anche nelle stanze, nei luoghi delle persone che vengono documentate in modo straordinario in questo filmato, piuttosto esteso, sono 60 minuti, che poi è anche ricco di interviste, abbiamo diverse persone comuni, io so che c'è anche un nome per indicare certe persone particolarmente creative o un po' come si possono chiamare dei matti, delle figure particolari e poi ci sono lavoratori, persone nuove, persone stranieri che vengono da nuovi mondi ad abitare in questa bassa padana e tra queste interviste c'è appunto Egidio Bandini, presidente del Club dei 23, Massimo Bubola, Piavoli e anche Zucchero Fornaciari che ha delle immagini bellissime, delle immagini di racconti molto interessanti al riguardo. Ecco, io chiederei all'autore, al coautore del film documentario di introducirci con qualche parola, guardiamo questo ampio spezzone e poi continuiamo il dialogo dove le parole arricchiranno anche il senso delle immagini. Grazie. Grazie a te Camilo, grazie al Centro Culturale Milanese che sta ospitando questa mostra, grazie agli ospiti che stasera sono qui con noi, Michele Brambilla che è come sapete il direttore della Gazzetta di Parma e col quale insomma c'è un rapporto anche di amicizie indirette, nonostante io sia reggiano, comunque il campanilismo in questo senso non ha vinto e ha vinto invece l'amicizia culturale. E Denis Curti soprattutto che mi segue da diversi anni nell'ambito fotografico e che ha il merito dell'allestimento di questa mostra, oltre che di un testo critico assolutamente molto pertinente che ha scritto appositamente per questa mostra. In sintesi, questo docufilm è nato dopo la prima esposizione, prima esposizione di questo lavoro che era stato concepito per i cento anni della nascita di Giovannino Guareschi che era il 2008, però con le lungaggini delle burocrazie italiche siamo riusciti ad arrivare a pubblicare il libro di Alemandi e a realizzare la mostra per la prima volta nel 2010. Io mi ero detto e avevo diciamo così dichiarato all'epoca, non so se questo sia un buon lavoro, però un merito ce l'ha a proposito del campanilismo. Mi ero riuscito a far dialogare le province di Reggio Emilia con quella di Parma, dove il campanilismo è ancora piuttosto acceso, è un po' alla peppone Don Camillo diciamo. E la mostra fu esposta per la prima volta nel 2010 in parte a Fontanelle, luogo di nascita Giovannino Guareschi, e in parte a Brescello. L'anno dopo, per tutta una serie di vicende, mi chiesero di esporla a Reggio Emilia. E allora io dissi d'accordo, però ha senso esporre una mostra a Reggio Emilia quando una parte di questa mostra è stata esposta già a Brescello, che è a 20 km a Reggio Emilia. Ho detto vorrei aggiungere qualcosa, e questo qualcosa è questo docufilm, che doveva essere originariamente una sorta di backstage, un'intervista a me su questo progetto da parte di un regista, che è Alessandro Scillitani, a cui va la gran parte del merito di questa docufilm, il quale aveva detto va bene, proviamo. Io ho visto dei suoi lavori, mi erano piaciuti. Lui lavora, poi all'epoca non ci lavorava ancora, però molto con il giornalista Paolo Rumiz. e gli ho detto a Alessandro un giorno, Alessandro vieni con me, ti porto nel mondo piccolo. E in quel giorno, eravamo in agosto, è accaduto una di quelle epifanie, di quelle scene improvvise, apparizioni, che sono la caratteristica un po' del mondo piccolo e sono anche la caratteristica, diciamo così, di un po' delle cose che vado a cercare nella fotografia, cioè quella commistione strana tra il reale e il surreale, tra la realtà e la fantasia. Questa è la scena poi che chiude il docufilm, quindi non ve l'anticipo, dovrebbe essere anche preso e spero, anzi sicuramente, nello spezzone, quindi vi auguro una buona visione, poi chiacchiereremo insieme sui contenuti di questo progetto fotografico e del docufilm. Buona visione. Ecco, invito i nostri ospiti a sederci un momento, prego, l'autore Simonazzi, sempre per ultimo. Ecco, chiederei un primo, ah sì sì, pardon, li avevo spostati io, giusto, per la visione, grazie. Primo intervento a direttore Michele Brambilla che appunto dirige il giornale La Gazzetta di Parma, quindi a contatto con Racconta è presente, il filmato che ha i sottotitoli, quello che è poi recuperabile nella reception. Racconta è presente, qui c'è credo una domanda aperta, è un mondo scomparso, la civiltà, la società contadina non c'è più da tempo e quella lo era, ci sono queste sopravvivenze eppure forse l'autore ci sta dicendo che quel mondo non è scomparso perché c'è qualcosa dentro il cuore, forse anche l'intervento del calzolaio non è così, è di fronte dei cambiamenti ma non è, c'è come una capacità del dialetto forse di riplasmare il presente. Vorrei sentire un suo primo intervento su questo tema, presente, una scelta autoriale di qualcosa di scomparso, ma che mi pare che indichi qualcosa di più, che c'è qualcosa di presente e che Guareschi non sia un mondo passato perché c'è qualcosa che si sposta mentre il nostro mondo si sposta del movimento. Non so se sono stato troppo complicato, però forse è uno spunto. Buonasera, allora il mio è il punto di vista di uno che viene da fuori perché io dirigo la Gazzetta di Palma da due anni e mezzo ma mi chiamo Brambilla quindi è evidente che non sono emiliano e frequentavo il mondo piccolo da prima di andare a dirigere la Gazzetta perché proprio vent'anni fa, nel 98, quando era il novantesimo anniversario della nascita di Guareschi e il trentesimo della morte ho conosciuto i figli di Guareschi, Alberto e Carlotta, Carlotta adesso è morta, e ho cominciato a frequentare la Bassa. La domanda che fa Camillo Formasieri se quel posto si è scomparso o no, per me ha una risposta chiarissima. No, non è scomparso. È chiaro però che i suoi attori dicono tutti che quel mondo non c'è più. Il calzolaio dice che Guareschi oggi non ritroverebbe nulla del suo mondo piccolo, la donna un po' cristiana dice che le donne non sono più come una volta. Però chi viene da fuori e si catapulta in quel mondo che poi vorrei cercare di localizzarvi perché è importante anche la geografia, chi si catapulta in quel mondo ha l'impressione di essere in un film di Don Camillo. Cioè il mondo è quello lì. Lo vedrete anche nella mostra. Le foto di Simonazzi non sono dei particolari sopravvissuti di un mondo che non c'è più. Sono il mondo com'è adesso. Per me il mondo piccolo è uguale. E ci sono ancora, si possono trovare ancora dei personaggi, e due ne avete visti, il calzolaio e la signora, che sono un po' come i personaggi dei romanzi di Guareschi. Lo smilzo, il brusco, la vecchia maestra. Sono quei personaggi, quello che vende l'anima, non so se avete presente nel film, quei personaggi lì ci sono ancora. È ancora una società contadina. Alberto Guareschi, il figlio di Giovanni, tanti anni fa, quando lavoravo al Corriere della Sera, mi aveva chiamato chiedendomi di fare un pezzo sul Corriere contro la costruzione di una porcilaia che avrebbe prodotto dei salumi in scala industriale perché sarebbero arrivati i camion nella bassa. E loro i camion non li vogliono. Adesso si lamentano che c'è traffico, ma per uno che vive qua e va a finire in quel mondo lì, davvero sembra la macchina del tempo. Le osterie, le trattorie, il culto del maiale, il maiale lì è tutto. C'è un giorno dell'anno che è dedicato alla maialata. La maialata è una mangiata di una trentina, non esagero, di porzioni di maiale, fatte nei modi più diversi. Salame, lo stroghino. Lo stroghino è un salame fatto con la prima parte del maiale perché si dice che mangiandolo si può strologare su com'è il maiale, se è buono o no. Poi ci sono i prosciutti, il culatello, la spalla cruda, la spalla cotta, i ciccioli. Insomma, lì c'è una religione della terra, della nebbia. Cioè lì si rimpiange il fatto che c'è meno nebbia di una volta. E vi assicuro che per uno che non è di lì guidare in quelle stradine della bassa con il fossato di fianco quando c'è la nebbia, è un incubo, sono strade strette, piccoline. Cioè per uno che vive, non dico a Milano, ma anche in Brianza, quello lì è un mondo di un altro secolo, di un altro millennio. Per cui la risposta è che il mondo piccolo c'è ancora e credo che in Italia siano poche le zone dove puoi ritrovare ancora i personaggi, l'atmosfera di 50-100 anni fa. Poi io vorrei localizzarvi queste zone perché se no, siccome qua non penso che siete tutti parmigiani o reggiani, si fa un po' di confusione. Allora, in questo filmato vedo che tra gli intervistati c'è anche Egidio Bandini che però voi non avete visto. Egidio Bandini è il presidente del Club dei 23 che è l'associazione degli amici di Giovannino Guareschi. Se Bandini avesse visto il calzolaio dire la nostra zona, Guareschi, non riconosce, avrebbe detto che si stava bestemmiando perché il calzolaio è della provincia di Reggio mentre Guareschi è della provincia di Parma e stasera noi abbiamo un reggiano che fa una mostra su Guareschi che è un miracolo perché lì sono considerati dei mondi completamente diversi. Allora, voglio dirvi qual è la bassa di cui stiamo parlando. Giovannino Guareschi nasce a Fontanelle di Roccabianca che è in provincia di Parma e poi va a vivere a Roncole che è una frazione di Busseto. Roncole è il paesino che è dato i Natali a un altro grande italiano che è Giuseppe Verdi. Se voi andate oggi a Roncole Verdi frazione di Busseto trovate la casa natale di Verdi sulla sinistra c'è una trattoria che si chiama il Vecchio Molino Pallavicino, buona e attaccata alla casa natale di Verdi c'è il bar-ristorante Guareschi che Giovannino Guareschi aveva aperto perché Giovannino oltre ad aver fatto il giornalista, lo sceneggiatore l'umorista, il narratore il disegnatore, vignettista eccetera ha fatto anche il ristoratore aveva aperto un ristorante che è stato gestito dai figli fino a una ventina d'anni fa e che poi è diventato il bar del paese attaccato alla casa natale di Verdi poco più avanti in una stradina che si chiama Via della Processione che va in mezzo ai campi che vedrete nella foto di Simonazzi c'è una casa folle che si chiama l'incompiuta dove abitava Guareschi folle perché l'aveva disegnata e costruita Guareschi con le sue mani che non era un ingegnere non era un muratore ma ha costruito una casa che ha una disposizione delle stanze totalmente imprevedibile arrivi a un piano dove pensi che la casa sia finita giri una parete c'è una scala e si scopre un altro piano eccetera quello è il mondo piccolo di Guareschi ed è il mondo dove Guareschi in questa casa che si chiama l'incompiuta ha partorito per caso il primo racconto di Don Camillo Guareschi aveva una rubrica su oggi settimanale oggi era come tutti i giornalisti un tiratardi e un giorno doveva consegnare il pezzo per il settimanale e non l'aveva fatto allora gli telefona il direttore smoccolando lui non sa come riempire questo spazio e gli butta dentro un racconto su Don Camillo che si era inventato in quel momento il racconto ha un grande successo e da lì nasce la serie che poi lui pubblica su Candido che era il suo giornale poi diventano libri e poi film eccetera questa è una zona ricca di suggestioni un'altra frazione di busseto che è vicinissima a Roncole Verdi si chiama Madonna dei Prati a Madonna dei Prati c'è un santuario ahimè colpevolmente lasciato cadere a pezzi dalla diocesi di Fidenza dove il piccolo Giuseppe Verdi andava a fare il chirichetto e ha cominciato a suonare una spinetta a suonare la musica questo santuario ripeto frazione di busseto anche quello il piccolo Verdi che era appassionato di musica durante una messa che mentre faceva il chirichetto si è distratto sentendo la musica invece di servire messa e il prete gli ha dato uno sberlone e allora Verdi in dialetto parmense perché i parmigiani sono un'altra cosa poi vi spiego anche questa differenza gli dice catvegna nasaetta che ti venga un fulmine o qualcosa del genere passano un paio di settimane e il piccolo Verdi deve tornare da casa sua a Santuario a Madonna dei Prati a servire la messa e nel tragitto scoppia un temporale furibondo era la seconda domenica di settembre credo fosse la festa della Madonna dell'8 settembre e non ce la fa ad andare a raggiungere la chiesa viene prelevato da una signora che abitava sul percorso lo tiene in casa per ripararlo dalla pioggia durante la messa cade una saetta effettivamente e fulmina il prete a cui Verdi aveva tirato la benedizione altri tre preti e due fedeli totale sei morti e questo c'è negli atti della parrocchia nel diario che tenevano i canonici c'è tutto il racconto della maledizione di Verdi è una terra piena di episodi così piena di campanilismi piena di particolarismi piena di di storie di gente matta Guareschi diceva che il sole batte talmente forte che è come un mattello sul cervello della gente che li fa impazzire ma è una zona straordinariamente affascinante e non è un caso che il mondo piccolo sia nato sia nato lì per dire dei campanilismi Verdi nasce appunto a Ronco le frazioni di Busseto provincia di cittadino francese perché c'erano i francesi allora e c'era la duchessa Maria Luigia che era stata la moglie di Napoleone che era la duchessa del ducato di Parma Piacenza e Guastalla Verdi è naturalmente come tutti i geni incompreso in patria nessuno è profeta in patria e anche quando poi diventa famoso i parmigiani storcono il naso dicono ma come fa un parmense la differenza che vi dicevo i parmigiani sono quelli di città i parmensi sono quelli della provincia i parmigiani dicono come fa un parmense a venire qua da noi al Regio nostro teatro insegnarci la musica è un villano delle roncole Verdi avrà sempre un rapporto conflittuale con Parma che adesso lo celebra ma in realtà lo detestò in vita e Verdi andò pochissime volte a Parma e volle trasferirsi a Villa Sant'Agata con la sua seconda moglie la prima morì a Milano di stenti di fame con i suoi figli la Strepponi la cantante lirica che Verdi sposò anzi sposò diciamo fu la sua compagna per molto tempo non poteva neanche sposarsi perché lei era già sposata Verdi va a vivere a Villa Sant'Agata che è esattamente un metro di là dalla provincia di Parma è in provincia di Piacenza per dare un segnale uno sfregio a Parma che non l'aveva voluto perché vi dico che è un miracolo che un reggiano abbia fatto una cosa su Guareschi perché c'è grande rivalità tra le province tant'è che Brescello dicono i guareschiani toc tipo Egidio Bandini o il figlio di Guareschi Brescello dicono non c'entra nulla con noi Brescello è in provincia di Reggio tutti noi lo conosciamo attraverso i film ma i film sono stati girati a Brescello perché Duvivier che era il regista francese che girò i primi film di Don Camillo voleva un paese nel quale il comune e la chiesa fossero uno di fronte all'altro nella stessa piazza Guareschi voleva girare il film a Fontanelle di Rocca Bianca il suo paese ma il comune e la chiesa non erano nella stessa piazza allora Duvivier si impose e cominciarono a girare a Brescello con una arrabbiatura di Guareschi spaventosa perché erano andati a girare in provincia di Reggio un film sulla bassa parmese i parmigiani dicono scusami dei reggiani azan testa quadra vuol dire reggiano testa quadra perché dicono che i reggiani sono meno intelligenti di loro perché hanno la testa quadra c'è grandissima rivalità è un mondo che vive tuttora di queste cose tuttora cioè venendo da fuori vi dico lì andando lì si vede si rivede il fascino della terra di questi matti di Giuseppe Verdi di Giovannino Guareschi il culto della terra della nebbia dei canali del maiale il culto del cibo le litigate che si fanno sul culatello il culatello è una parte del prosciutto che può essere prodotta solo in sette comuni del mondo che sono tutti lì Zibello Soragna Busseto San Secondo Sissa eccetera è un mondo che è ancora così e l'ultima cosa poi finisco questo mondo ha un fascino strano perché è capace davvero di trasmettere valori universali Montanelli diceva che Guareschi era stato un grande perché per capire l'Italia del 48 divisa fra comunisti e democristiani fra blocco sovietico e quello occidentale eccetera bisogna leggere Don Camillo e con quei libri si è potuta spiegare l'Italia del dopoguerra con tutto l'affetto per Montanelli è una interpretazione riduttiva perché i libri di Guareschi sono stati tradotti e sono tradotti tuttora in tutte le lingue del mondo compreso il coreano eccetera e se voi andate un giorno vi consiglio a Roncole nell'ex bar ristorante Guareschi c'è il museo permanente di Guareschi con il figlio Alberto che ve lo fa visitare e trovate le cose vere di Guareschi la sua motoretta di allora la bicicletta da corsa che usa da un camillo nel film le lettere che Guareschi era un maniaco conservava tutto tutte le lettere che ha ricevuto quando era in carcere insomma se andate lì voi vedrete che ci sono tutte queste c'è una parete intera di copertine di Don Camillo tradotto in tutte le lingue del mondo allora anche in cinese sì ecco in cinese non lo so sinceramente però l'ultima è l'albanese l'albanese sì sì ma però quello che voglio dire è questo che se quei libri lì che sono stati scritti nel 48 49 a distanza di tanti anni interessano ancora generazioni che non sanno nulla dell'Italia del dopoguerra della democrazia cristiana e popoli che non sanno nulla che non gliene frega nulla di quello che è successo in Italia in quegli anni è perché quei libri comunicano qualche cosa che va molto oltre la fotografia di un momento storico quei libri trasmettono un'umanità una pienezza dei rapporti umani dei sentimenti dell'essere persone vere che non saprei neanche descrivere parole ma è così i libri di Guareschi sono libri che si possono tenere sul comodino e rileggere migliaia di volte rileggere dei racconti migliaia di volte e trovare sempre qualche cosa che ha a che fare con quello che stai vivendo questa è una magia di uno scrittore che diceva di conoscere soltanto 200 vocaboli ma che ha saputo trasmettere un messaggio che sembra immortale e che diceva lui non veniva dalla sua testa ma dal mondo piccolo cioè lui dice io non ho inventato niente la mia è l'invenzione del vero cioè ho semplicemente raccontato il mondo in cui ci sono stato io vi consiglio tanto un'ora di macchina ma davvero di andare scusami se te lo dico di non andare a Brescello perché Brescello vuoi tutto ricostruito di andare a Roncole Verdi di prendere appuntamento con Alberto Guareschi andate sul sito www.giovaninoguareschi.com trovate tutta la storia di Guareschi e prendete un appuntamento andate lì vi fate vedere l'archivio di Guareschi vi fate vedere la mostra permanente andate a mangiare lì che si mangia benissimo la torta fritta che lì si chiama torta fritta loro lo chiamano gnocco fritto ma la stessa cosa e vi passate una giornata straordinaria vedete la casa di Verdi vedete un'Italia che vi sembrerà di frequentare con la macchina del tempo grazie Rambilla ha senz'altro risposto e ci ha raccontato questo fascino perché trasmette valori universali una pienezza di rapporti umani qui sta anche la risposta alla domanda che avevo di questo tempo presente lui l'ha giocata anche in questa relazione con persone di culture diverse culture che stanno anche arrivando in quei luoghi da tempo Giorgio Torelli qualche anno fa dieci anni fa un grandissimo giornalista grande amico di Guareschi era intervenuto presso il nostro convegno e raccontava di questo tema appunto del del maiale di questo animale che non si perde nulla di lui attorno a cui si costruisce tantissima convivenza e di civiltà per cui è una cosa assolutamente impura lontana ma come faremo diceva e metteva lì questa domanda vorrei chiedere al nostro autore a Simonazzi qualcosa che continua questo questo discorso tu hai intitolato una mostra è un libro è il documentario mondo piccolo con lo stesso nome del mondo raccontato da Guareschi ci fa venire in mente credo che non hai voluto rappresentare Guareschi hai cercato di penetrare il suo animo un animo di un uomo vivo ecco potremmo chiamarlo con Chesterton l'avventura di un uomo vivo la vita di Giovanni Guareschi comunque un mondo quindi una totalità piccolo cioè questo particolare che è questa zona così anche delimitata come ha detto Marambilla che però è universale trasmette i valori universali e questo è un'astrazione è un concetto molto molto esistenziale molto concreto ti volevo chiedere se appunto è un miracolo che un reggiano come te sia andato in questi luoghi che cosa cercavi e che cosa hai trovato e anche che cosa hai trovato di quello che non cercavi perché vedendoti con la macchina fotografica che fotografi le terre gli alberi o le persone che sono state anche intervistate fa impressione cercare di captare qui poi entriamo un po' nel tema dell'arte dell'autografia di intercettare qualcosa che è una pienezza certo è attraverso delle cose ma la pienezza non si vede quindi dici cosa cercavi cosa hai trovato e se hai trovato qualcosa che non cercavi però rispondi sì sì rispondo però rispondo brevemente perché stasera ho preparato una cosetta un po' particolare mi ero preparato e in realtà stasera io non voglio parlare della mia fotografia perché ci sarà Denis che sicuramente saprà farlo come è il suo compito meglio di me però ti rispondo ti rispondo con tre righe di un bel libro uscito alcuni anni fa di Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro su Guareschi dico questo mondo piccolo non è il luogo della perfezione dell'assenza del dolore della soppressione del male eppure chiunque vi entri non vorrebbe più uscirne e quando lo raffronta con la realtà si trova a pensare quanto sarebbe bello il mondo grande se fosse come mondo piccolo io stasera però vorrei omaggiare il centro culturale di Milano che ha ospitato questa mia mostra con un estratto di un racconto di Giovannino Guareschi tratto appunto dal suo primo volume edito a stampa che è La scoperta di Milano perché tra Fontanelle di Rocca Bianca e Roncole Verdi c'è un periodo importante della carriera giornalistica e pubblicistica e di Giovannino Guareschi trascorso a Milano io parlai di questo mio desiderio di portare la mostra a Milano prima di tutto con un amico che è Luca Melloni del CLP che grazie al quale siamo arrivati qui quindi mi permetto che là in fondo di ringraziare e credo che meriti un applauso per il suo grande lavoro svolto e parto per leggervi un estratto di questo racconto da due fatti di cronaca uno non me ne voglia il direttore è stato pubblicato oggi sul resto del carino in prima pagina ma non solo c'è la notizia che è apparsa auto a guida autonoma uccide un pedone Uber ferma tutti i test e un altro sempre diciamo così apparso non tantissimo tempo fa sempre il carlino non me ne voglia però allora farazia con il gemmer arrestato ventenne viene sorpreso rubare nel parcheggio e malmena una guardia con questo sistema che io sinceramente forse perché sono anche io ormai un po' sorpassato le auto dotate di sistema Keyless che io sinceramente ancora non conosco allora vi leggo questo racconto questo è stato il racconto di Giovannino Guareschi dalla scoperta di Milano che mi sembra quanto mai attuale gli uomini per loro natura hanno un debole per le donne e le donne lo sanno perfettamente eppure Margherita che è il nome d'arte di sua moglie che il vero nome era Enia quando mi vede svagato quando si accorge che io guardo lontano e che evito di parlare con lei non mi dice Giovannino tu hai un'altra donna mi guarda invece con i suoi grandi occhi neri poi scuote il capo e mormora tristemente Giovannino tu hai un'altra macchina la dolce signora che non mi volle più signorino sa che io sopra un'altra cosa ho un debole per le macchine la macchina mi attira come il precipizio attira il turista io non mi faccio illusioni sulle macchine le macchine uccideranno l'uomo io vedo come un incubo lontano un paese dove le macchine hanno raggiunto la perfezione un paese dove poco alla volta si è trovata una macchina per fare tutto anche per giudicare un colpevole o per scrivere un romanzo di avventure tutto in fondo è matematica e in signi filosofi hanno dimostrato l'armonia aritmetica del pensiero si è trovata dunque una macchina per fare ogni cosa e di anno in anno dette macchine sono state perfezionate e sono state collegate fino a creare un tutto mirabile fatto di fili di braccia articolate di cellule fotoelettriche di onde di campi magnetici e l'uomo un bel giorno si è accorto di essere prigioniero del suo capolavoro impossibile fermare la macchina che trae le energie da risorse naturali controllate e regolate dalla macchina stessa l'uomo è sorvegliato continuamente da invisibili raggi che registrano ogni suo gesto che controllano perfettamente il funzionamento del suo organismo ogni stanza ogni strada è un insieme di braccia articolati di tentacoli metallici di traguardi fotoelettrici l'uomo entra in casa sulla soglia di una bilancia automatica registra il suo peso un certo raggio la sua statura un termometro magnetico la sua temperatura immediatamente la macchina centrale sa se gli deve mangiare o no se deve mangiare un braccio articolato afferra l'uomo lo mette a tavola un altro braccio gli mette il tovagliolo una cucina automatica comincia a sbuffare il pasto è pronto tentacoli di acciaio gli portano il cibo alla bocca bisogna mangiare si può tralzare solo quando la bilancia che è sotto la sedia scatterà e lascerà liberi certi arnesi di ferro che ve lo tenevano assicurato l'uomo fa per accendere una sigaretta un soffio d'aria compressa gliela butta via le radiazioni magnetiche emesse dal suo sistema nervoso hanno avvertito un certo apparecchio che l'uomo è agitato e che quindi il fumo è inopportuno si alza per prendere un libro dallo scaffale si accende una freccia rossa che gli indica quale deve prendere le onde magnetiche emesse dal cervello dell'uomo e registrate da un apparecchio speciale sono tali da permettere la lettura di un solo determinato genere l'uomo è divenuto prigioniero delle sue macchine egli deve fare soltanto quello che gli dicono le macchine niente altro l'uomo non può fuggire e non può neppure gustare gli infernali meccanismi anzi prega Dio che nessuna macchina si guasti perché il primo giorno che un solo pezzo si guastasse essendo ogni meccanismo collegato all'altro sarebbe un pasticcio tremendo e gli uomini per esempio verrebbero costretti a farsi lucidare il naso dalla spazzolatrice per scarpe a camminare sulle mani a indossare una vasca da bagno invece di una maglia pesante una faccenda paurosa lo vediamo noi con le macchine automatiche distributrici metti due lire per avere una cioccolata e ti esce un gettone per il telefono metti una lira per quattro cigarette e ti esce un bottone figuriamoci con una macchina così è come se la caverebbero i disgraziati abitanti del pauroso paese componendo poesie a memoria però la macchina permetterebbe infatti di scrivere poesie solo a coloro che dalle radiazioni magnetiche del loro cervello si dimostrassero adatti a scrivere poesie io penso spesso a questo pauroso paese dove la macchina ha preso il perdominio sull'uomo una rivolta di schiavi è terribile una rivolta di macchine deve essere spaventosa chi riesce più a dominare la macchina quando la macchina diventa insensibile a ogni comando ricordo ancora con terrore la sciagura del mio antifurto da poco avevo acquistato la mia macchina automobile e quando la lasciavo nella strada mi affacciavo 30 volte al minuto al balcone per il timore che qualcuno se ne impadronisse fece allora un ragionamento sensato e ingegnoso occorre un dispositivo antifurto ma un dispositivo che non si limiti a tutelare la macchina ma che tuteli nello stesso tempo la legge il ladro non solo non deve poter rubare ma deve pur essere assicurato la giustizia e studiare un antifurto speciale che potesse avere come motto questo grido di battaglia invece di complicare il già complesso impianto elettrico con congeni che possono venire facilmente neutralizzati diamo voce alle macchine automobili in altre parole l'idea informatrice della mia invenzione era questa la macchina automobili abbandonata vicino a marciapiede deve poter dire da sola al ladro al ladro se qualcuno tenta di rubarla e io dopo laboriosa esperienza riusci a realizzare il mirabile progetto si trattava di un apparecchio semplicissimo un rullo fonografico a motorino comandato dalla batteria un diaframmetto e un amplificatore ben celati e inchiavardati nella carrozzeria schiacciando un bottone il motorino si metteva in moto e la macchina cominciava a gridare al ladro al ladro c'è uno che tenta di rubare quest'automobile fermatelo cittadini un furto in queste condizioni era impossibile dove sistemare il bottone di comando del dispositivo in modo che esso agisse quanto un estraneo tentasse di allontanarsi dalla macchina semplicissimo nel sedile anteriore avete visto un uomo che guida un'automobile stando in piedi deve sedersi per forza e quando si siede il sedile cede si forma un contatto e il dispositivo ventrinazione condotta a termine la mia invenzione feci il primo esperimento lasciata la macchina nella strada con i cristalli aperti per invogliare qualche malintenzionato a sedersi al volante attesi dopo un quarto d'ora ecco un putiferio venire dalla strada al ladro al ladro c'è uno che tenta di rubare questa macchina fermatelo cittadini mi precipitai un centinaio di persone faceva circolo intorno alla mia vetturetta un cane ignaro del nuovissimo dispositivo si era andato ad accucciare sul sedile anteriore della macchina lo caccio via poco garbattamente la gente ride qualcuno asserisce che si tratta della pubblicità della magnesia ormai lì non c'è più niente da fare salgo nella macchina per portare in un altro punto non mi sono ancora seduto che si sente un urlo lacerante al ladro al ladro c'è uno che tenta di rubare questa macchina fermatelo cittadini maledizione per la seconda volta ho dimenticato di far scattare il bottone del bloccaggio nella confusione stendo a trovarlo e le urla continuano per un po' un agente accorre vede la folla mi afferra per il collo stento a spiegargli come stanno le cose decido di arrivare al centro e di abbandonare la macchina in un posto qualsiasi mi apposterò in un caffè giunto in corso Vittorio Emanuele affollatissimo per il passeggio incontro una signora di mia conoscenza fermo e la invito a salire sale riparto e arrivo in piazza del Duomo qui improvvisamente sento un piccolo scatto seguito da un urlo straziante al ladro al ladro c'è uno che tenta di rubare questa macchina fermatelo cittadini un contatto un semplice contatto un filo che si è spostato nessuno riuscirà più a far tacere l'infernale dispositivo dopo due secondi ho attorno alcune migliaia di persone la signora piange per la vergogna mi schiaffeggia chissà perché e se ne va una squadra di sorveglianti mi mobilizza la folla minaccia di linciarmi e intanto il maledetto rullo continua a farneticare fermatelo cittadini fermatelo cittadini fermatelo cittadini fermatelo cittadini si è guastato il disco e continua così finché ci sarà un atomo di energia elettrica nella batteria le persone radunate assommano presto a qualche decina di migliaia i umiliti del fuoco provvedono a imbavagliare la macchina la coprono con materassi tele impermeabili cuscinetti la legano come un salame e un po' smento come venisse da lontano continua l'urlo ossessionante fermatelo cittadini fermatelo cittadini Margherita sa che io quando sono svagato e guardo lontano penso a un'altra macchina sono ormai tre giorni che mi vede così e mi si è avvicinata mentre io stavo guardando la cassettina che ne regge fra le carte la mia scrivania giovenino perché non scrivi alla ditta ha mormorato Margherita i consigli della dolce compagna della scuola e della mia vita sono sempre saggi ho scritto alla ditta e poi parla della sua macchina da scrivere è anche qui un'altra avventura perfetto spero che vi siete divertiti abbia spiegato perché è il fascino di un luogo dove non c'è la perfezione il buon Simonazzi ecco adesso chiederei a Dennis Curti di inquadrare un po' anche una storia diciamo parallela che è la storia degli sguardi della fotografia quindi degli uomini che osservano la realtà e desiderano raccontarne le loro percezioni agli altri al mondo che caratterizza un po' queste terre ovviamente da Paul Strand fino a Zavattini fino a Ghirri e tanti autori che di queste terre in senso anche più lato e non con i limiti diciamo anche del mondo piccolo hanno avuto rispetto a questo territorio e a cui mi pare che faccia parte anche lo sguardo di Simonazzi che evidentemente come ha scritto nel saggio introduttivo della mostra c'è anche un paragone forse con un'infanzia vissuta con un tempo di giovane ragazzo che ricerca i luoghi e li guarda con la profondità di un adulto però ecco oltre a questo dato che appartiene forse al lavoro di Paolo c'è qualche angolazione qualcosa che dobbiamo ancora scoprire di più attraverso lo sguardo degli altri di altri autori rispetto a queste a queste suggestioni a questi paesaggi ho solo bisogno un minuto di avere una ho preparato una piccola proiezione ah vuoi utilizzare le immagini ok perfetto parole immagini mi sposto di qua perché si la vedo girarci qua possiamo metterci in realtà diciamo la chiacchierata che volevo fare cercherò di andare veloce sono già le 10 non voglio farvi fare troppo tardi e perché secondo me il lavoro di di Paolo Simonazzi è un lavoro ovviamente intorno alla memoria l'abbiamo visto nel film ma il suo lavoro in generale perché questo lavoro di mondo piccolo è di qualche tempo fa poi lui lo ha aggiornato ma il lavoro più recente che Paolo ha fatto è un lavoro su dei personaggi che stanno anche questi nella bassa e che vengono definiti i lunatici e la prima volta che lui me l'ha raccontato io non riuscivo assolutamente a capire perché qui a Milano i lunatici sono altri sono quelli che si alzano con la gamba sbagliata e tutto il giorno rimangono arrabbiati e sono di cattivo umore i lunatici invece in questi luoghi che sono stati così bene descritti sono dei personaggi strani e in modo particolare sono questi personaggi che raccolgono raccolgono tante cose le più le più diverse abbiamo visto raccoglitori di lucchetti di chiavi di quadri è un lavoro molto bello lo trovate anche sulla rete si chiama Le cose ritrovate ed è un libro che abbiamo fatto con Marsiglio e quindi è come se Paolo avesse un po' questa ossessione della memoria è importante definire le proprie ossessioni perché nel momento in cui si riconoscono ci si può fare i conti altrimenti si prosegue avendo delle ossessioni ma se uno non le conosce non funziona allora questa è una brevissima presentazione che ha a che fare con questo titolo Un mondo senza memoria in un momento in cui le ricerche più più recenti dicono che la soglia di attenzione è misurata sotto gli otto secondi soprattutto sulla rete soprattutto davanti alle pagine web dopo dopo otto secondi si cambia il tempo di permanenza è più lungo insomma e quindi tutti i comunicatori e tutti i pubblicitari sono molto attenti a questa vicenda infatti vedete che tutti i banner di comunicazione ti dicono quanto tempo dura lo spot e ti dice dura mediamente 14 secondi che è già oltre la soglia però se tu vuoi vedere il film che hai cliccato te lo devi vedere però poi a un certo punto arriva puoi saltare l'annuncio e quindi anche quello richiamo di attenzione tu clicchi salti l'annuncio e risparmi 4 secondi cioè stiamo parlando di di queste cose e queste qui sono un po' alcune vicende che hanno a che fare con la memoria poi naturalmente arriviamo alla fotografia e un terzo diciamo di giovani sotto i 30 anni non sa dire a memoria di abitanti il proprio numero di telefono di casa questo proprio è garantito e negli USA pochissimi sanno più di 5 numeri telefonici a memoria e due terzi degli americani non conoscono la data della guerra civile che diede forma agli attuali Stati Uniti questa è una ricerca appunto rivolta in modo particolare all'America perché è come dire forse il paese tecnologicamente più avanzato e un quinto degli studenti americani non sa indicare i nemici della seconda guerra mondiale e questa è una ricerca che ci aveva fatto conoscere Rampini l'inviato della Repubblica e dice abbiamo dato in outsourcing la facoltà di immagazzinare conoscenze e qui questa sera sono state dette tante cose interessanti perché appunto si è parlato molto di memoria si è parlato di un tempo fermo si è parlato di un tempo che si è fermato si è parlato della necessità di raccontare e appunto di raccogliere e io vorrei aggiungere che il lavoro che abbiamo visto nel film vi sarete accorti che nel film ci sono anche delle fotografie ci sono dei fermi immagini e chi ha visto la mostra avrà riconosciuto anche delle immagini ed è un film che ha una buona fotografia nel senso che ha una buona luce ci sono dei punti macchine molto interessanti e che si richiamano a questo e che cosa che cosa hanno fatto cosa ha fatto Paolo e che cosa ha fatto il regista ma soprattutto Paolo secondo me ha definito un perimetro emotivo e questo il lavoro secondo me di Paolo degli ultimi anni almeno e la definizione di questo perimetro emotivo è fondamentale perché in qualche modo lui riesce a scardinarlo riesce ad entrare insomma non è che lui si è ispirato a Hitchcock e quindi si è messo lui l'avrete riconosciuto il nostro Paolo Simonazzi che in più di un'inquadratura lo si vede esattamente come faceva Hitchcock in ogni suo film ma come dire la sua presenza sta in qualche modo a testimoniare e a sottolineare questa volontà di entrare di superare questo questo perimetro emotivo e guardate che quando una fotografia riesce come dire ad avere ad occupare uno spazio che è quello dell'abbraccio è una buona fotografia avrebbe detto Robert Capa perché se non sei abbastanza vicino vuol dire che le tue fotografie non sono buone e quindi Paolo riesce a fare questo cioè si riprende la facoltà della memoria e della conoscenza e costruisce questo perimetro emotivo che secondo me è fondamentale e quindi le fabbriche del ricordo sono sempre più lontano dal nostro corpo perché sforzarsi di ricordare un itinerario se c'è Google Maps o un GPS no? Non è così importante e perché ricordare le tabelline se è possibile avere una calcolatrice sul telefono sempre a portata di mano e la memoria non è testimonianza di intelligenza no? Chi si ricorda il film di Rain Man se lo ricorda no? Di questo che sbanca il casino ma è autistico non è la sua memoria non è una memoria intelligente e non sono diventati premi Nobel i tassisti di Londra prima del GPS no? E quindi questi che sapevano girare dappertutto e senza GPS ma appunto non era quella l'intelligenza e quindi la memoria è come un muscolo e va tenuto in allenamento se consegniamo tutto ai gadget tecnologici il nostro cervello non potrà più fare ginnastica e mi pare che il tema di questa sera appunto di andare a raccogliere questa memoria faccia un po' riferimento a questa vicenda e Foer dice che la memoria umana è superiore a tutti i surragati elettronici è dotata di una selettività efficiente rispetto alla massa di informazioni sfornata dai motori di ricerca e questo è un'altra evidenza del lavoro di Paolo Simonazzi proprio questa capacità di andare a scegliere questa capacità selettiva di andare a individuare le storie da raccontare e sempre Foer ha vinto il campionato della memoria nel 2006 per memorizzare la sua tecnica si affida supporti visivi e immagini che diventano custodi dei ricordi e questo è bellissimo perché ancora di più ci riporta al tema di questa sera in francese imparare a memoria si dice imparare con il cuore che secondo me è un po' quello che ha fatto Paolo e che il film ci ha fatto vedere un riferimento al potere emotivo che attiva questa straordinaria facoltà mentale perché rivalutare la memoria le recenti ricerche evidenziano le superiori performance scolastiche dei paesi asiatici rispetto al disastro delle scuole americane che forse tutti conoscete i risultati migliori si evidenziano dove l'apprendimento avviene attraverso l'uso della memoria e quindi arriviamo alle fotografie perché la fotografia è come dire sinonimo di memoria quindi viene inventata perché c'è questa esigenza che da sempre l'uomo ha che è quella di trattenere un'immagine dalla mitologia ai giorni nostri il desiderio è quello di poter trattenere e questa pensate è un diciamo è un disegno un quadro che viene fatto da Friedrich il capostipite del romanticismo tedesco che a un certo punto fa questi disegni e li mette su un binario a tre file e sono tutti e tre bucati esattamente in parallelo e sono quadri che si possono vedere soltanto di notte con la luna piena quando la luna esattamente la riesce a mettere in quel cerchio quindi sostanzialmente si inventa un proto obiettivo ma questo lo fa nel 1826 quando la fotografia non era assolutamente è stata annunciata ancora una volta a sottolineare l'esigenza dell'uomo di costruire una macchina o comunque di costruire un marchigegno che potesse avvicinarsi sempre di più alla rappresentazione perché non è mai la realtà ma è sempre la sua rappresentazione perché il mondo non è mica fatto come i quadri di Friedrich così come non è fatto assolutamente da quella che il nostro Daguerre porta ad Aragone nel 1839 per dirgli che ha inventato la fotografia perché e qui vado veloce perché probabilmente molti di voi lo sanno già quando lui fa questa fotografia la vedete siamo in un boulevard parigino dove accidenti è deserto guardate non c'è nessuno non passa una carrozza però la prospettiva è perfetta guardate la resa e la domanda è ma come mai non c'è nessuno come mai è tutto così deserto siamo guardate gli alberi a mezzogiorno l'ombra è zenitale è proprio in piena luce però per fare questa fotografia Daguerre ci ha impiegato 20 minuti perché non esistevano le pellicole non esisteva neanche l'otturatore le lastre erano emulsionate a mano la macchina fotografica era messa su un trepiede di legno e lui deve esporre la lastra per 20 minuti se una carrozza o una persona passa da qua a là ci impiega tre minuti e quindi non riesce a rimanere impressa perché ce ne vogliono 20 per fare tutta la fotografia però siccome lui era un grande uomo di marketing ed era molto appassionato di memoria di storie eccetera dice non è vero perché guarda che cosa ho fatto io sono riuscito a fotografare anche l'ustra scarpe il suo cliente e dice porca miseria che invenzione strepitosa la prima fotografia che già riesce ad essere un'istantanea non è che racconta una storia molto emozionante però comunque è una storia beh gli studiosi stanno ragionando molto su questa fotografia e si pensa che addirittura Daguerre abbia chiesto all'ustra scarpe al suo cliente di rimanere fermi 20 minuti e di recitare per lui quindi memoria storytelling menzogna tutto quello che volete ma come dire è incredibile come la prima fotografia quella che Daguerre usa per dire ho inventato la fotografia insieme a Nieps e da lì prenderà un vitalizio per tutta la sua vita contiene già il virus della menzogna e questo è abbastanza incredibile perché ci fa capire come la fotografia che è il custode della memoria accidenti bisogna sempre dubitare un po' no di quello che vediamo però poi voglio dire di fronte a immagini del genere questo è un Carlo Naya a Venezia rimaniamo stupefatti e anche qua se voi guardate attentamente guardate come la laguna sembra un lago quasi ghiacciato perché l'acqua è ferma non c'è il moto ondoso e insomma anche le figure umane si vedono ma si vedono male perché anche qua sicuramente hanno fatto dei passi avanti l'otturatore l'hanno inventato eccetera ma sono tempi di posa molto lunghi per arrivare poi a una fotografia che si avvicina vado velocissimo che a me lo abbia pazienza perché se no vi annoio troppo quindi arriviamo ai giorni nostri dove la fotografia ormai ha superato tutte le vicende tecniche si possono fotografare la realtà anche a colori e a un certo punto c'è una vicenda fondamentale per la fotografia e siamo negli anni 80 dove Basilico Castella Chiaramonte Garzia insomma capitanati dal mitico Luigi Ghirri guardate con dei testi di Gianni Celati e di Carlo Arturo Quintavale insomma questa banda di fotografi un po' stanca ma anche consapevole del fatto che questo paese l'Italia veniva raccontato è stato raccontato dagli alinari largo e lungo direi magnificamente ma forse bisognava fare qualche passo in più e che era raccontato dalle cartoline e che sembrava fermo inchiodato nel neorealismo sembra che sia esistito soltanto il neorealismo in questo paese e Guareschi qualcosa ne sa di sicuro anche di questo allora loro dicono bene noi vogliamo raccontare un paese che sta ai margini andiamo a Brescello andiamo a vedere quello che le cartoline non ci fanno vedere quello che gli alinari non ci hanno mostrato e quindi Viaggi in Italia è sostanzialmente il primo lavoro che diciamo vuole mettere in evidenza un'Italia ai margini un'Italia marginale attraverso un linguaggio come quello della fotografia che è assolutamente marginale e che mette sostanzialmente in discussione quella che è stata fino a quel momento la fotografia di paesaggio cioè la veduta cartolinesca che ha origini ottocentesche che parte dal Grand Tour e che ci ha accompagnato fino ad oggi e quindi insomma questo questo signore fa delle delle immagini che sicuramente per atmosfere e per similitudini e per letture e ci riportano anche alle fotografie di Paolo Simonazzi dove in qualche modo la fotografia smette di raccontare delle storie esatto smette di essere una fotografia cioè delle storie che hanno come dire uno svolgimento classico magari con un colpo di scena in mezzo e un finale aperto un finale romantico e quindi smettono di svolgere una funzione utilitaristica cioè ma cosa sta dicendo chi mi sta facendo vedere questa fotografia serve a no questa fotografia esprime tutta la sua autonomia no esattamente come faceva Daguerre nel 39 quando fa una fotografia che come dire comincia a ragionare sul significato vero delle immagini e insieme al nostro Luigi Ghirri a tutta una serie di persone c'è Gianni Celati che fa questo libro in particolare che si intitola Verso la foce che è un libro fondamentale dove lui fa un viaggio sul Po e questo viaggio lo fa anche con Luigi Ghirri lo fa con dei registi lo fa con dei fotografi ed è in qualche modo il cantore di tutta una serie di luoghi marginali assolutamente è fondamentale perché poi accompagnerà moltissimi fotografi e moltissime avventure dopodiché la fotografia per contro ha anche svolto una funzione ma qui mi fermo volevo solo darvene un assaggio perché c'è una storia incredibile di come la fotografia in realtà può svolgere poi anche un'altra funzione che è quella come dire della testimonianza e della memoria perché appunto non so chi di voi ha visto il film di Scorsese su New York che è tratto assolutamente da queste immagini cioè sembrano Gags of New York sembrano proprio fatte così Lewis Hine vi ricorderete queste fotografie appunto sul lavoro minorile che sono fondamentali perché da queste fotografie sono poi state emanate delle leggi a tutela dei minori quindi la fotografia sicuramente ha svolto un ruolo fondamentale per raccontare anche delle vicende importantissime l'aspetto che mi sembrava importante sottolineare questa sera è che la funzione di queste fotografie si avvicina ad una dimensione intima ritorno ancora una volta a questa idea a questo sentimento questa sera si è parlato di sentimenti di questo perimetro emotivo che come dire Paolo Simonazzi questa sera e altri grandi fotografi insieme a lui hanno tentato di definire e secondo me in modo veramente strepitoso grazie vi sono domande che volete porgere ai nostri ospiti prego le do io il microfono grazie il direttore ha detto che non è di Parma si chiama Brambilla io mi chiamo Brianzoli quindi può benissimo inquadrarmi io vorrei fare un sincero elogio al fotografo perché i suoi paesaggi i suoi paesaggi di quella zona sono qualcosa che mi hanno toccato veramente il cuore perché dal 2002 al 2007 quando sono andato in pensione sta per cui lavoravo ho fatto una grossa acquisizione a Rocca Bianca di una fabbrica di materie plastiche e l'uscire dall'autostrada da Fidenza specie in autunno in inverno andare a Rocca Bianca è qualcosa di iper favoloso e lì secondo me quel mondo ancora c'è lei l'ha fotografato non le dico poi anche nelle persone era la fabbrica che cercavo di frequentare con maggior assiduità da Milano perché quella mensa artigianale col culotello all'inizio con i ravioli sino la torta finale i tortelli non la viola sì ma qui si sente che sono lombardo una cosa meravigliosa poi guarda caso prima di partire a lasciare la fabbrica si passava anche a Rocca Bianca dove c'è una grande fabbrica di culatello qualcosa di indimenticabile e quindi la ringrazio di cuore c'è qualcuno ancora in conclusione vorrei chiedere anche a Michele Brambilla una battuta suggestione finale rispetto anche a questo anno guerreschiano e anche su questo tema della memoria nella nostra società a cui hai aperto anche la bellissima retrospettiva che ha fatto Dennis Curti così anche come giornalista come visione un po' di questa memoria attraverso l'immagine della fotografia e anche la nostra società quando Dennis Curti faceva vedere all'inizio i tempi di attenzione sugli 8 secondi eccetera pensavo davvero a quanto stiamo perdendo la tecnologia ci ha dato tantissimo ma rischiamo veramente di perdere tanto è uscito un librettino che non mi ricordo più come si chiama ma è una roba tipo un manuale di resistenza analogica una roba del genere lo conosco ecco che io sul comodino e penso che se noi ogni giorno facciamo una specie di fioretto di non mettere il navigatore per andare in un posto magari fermarsi a chiedere scusi sa dove oppure fare un'operazione a mano piuttosto che sul calcolatore adesso non mi sta venendo in mente perché ma ci sono tantissime cose in cui io dico rinuncio alla tecnologia e faccio come si faceva una volta cioè ci siamo abbruttiti appunto che ci portiamo il telefonino al gabinetto penso che sarà successo a tutti voi andiamo in bagno col telefonino adesso vi faccio una domanda voi sapete l'anno scorso nell'arco dei 12 mesi quanti smartphone non telefonini quanti smartphone sono stati venduti nel pianeta cioè non quanti smartphone aveva a disposizione la gente quanti nuovi smartphone sono stati venduti nell'arco dei 12 mesi provate a dire una cifra siamo 5-6 miliardi facciamo un e mezzo un miliardo e mezzo vuol dire che solo l'anno scorso un abitante della terra su quattro si è compresi i neonati quelli di 90 anni compresi quelli della Papua Nuova Guinea eccetera un abitante su quattro si è comprato uno smartphone io penso davvero che ci sia da fare una specie di chi se ne frega a un certo punto non so usare questa nuova app ma come non sai pazienza però riprendere a leggere adesso c'è stato tempo di libri a Milano hanno detto gli ultimi dati dell'Istat soltanto il 40% degli italiani leggono dai 6 anni in poi leggono almeno 3 libri all'anno di questo 40% no scusate solo il 40% ne legge 1 all'anno di questi la metà ne legge 3 e 1 su 100 ne legge 12 all'anno cioè abbiamo disimparato a leggere abbiamo disimparato a scrivere siamo la fotografia adesso appunto ci sono le storytelling su internet eccetera ma la fotografia afferma un'immagine gli dà un aspetto di eternità che è impagabile quello che comunica una fotografia non c'è video di whatsapp che lo possa comunicare non si tratta di fare i nostalgici ma si tratta di secondo me saper capire fino a dove a un certo punto tutte le rivoluzioni vanno gestite vanno gestite in qualche modo perché altrimenti smarriamo qualche cosa fondamentale per essere umani l'ONU ha detto che i robot fanno perdere il 66% dei posti di lavoro nei prossimi anni insomma tornando al mondo piccolo è una di quelle di quelle cose andare a visitarlo che ci fanno fare i conti anche un po' con le nostre radici lì le radici sono fortissime la gente che abita lì sente fortissima l'appartenenza proprio alla propria terra e questa è un altro dei valori da recuperare sapere che non siamo figli di un'app mi viene in mente una roba che io ho un cugino che ha un ristorante in Brianza che si chiama La Canonica a Triugio ristorante Fossati e sono andati dei cinesi che erano qua a Milano per lavoro e hanno visto che c'è la lapide nel ristorante con scritto che lì aveva abitato Ludovico il Moro e questi gli hanno chiesto ma Ludovico il Moro ma era uno della Apple penso che quando arriviamo a questi livelli ci dobbiamo un po' preoccupare il fatto che Guadeschi dopo cent'anni dalla nascita e cinquanta dalla morte sia centodieci dalla nascita e cinquanta dalla morte sia ancora così affascinante per tanta gente secondo me è bellissimo è bellissimo grazie un'ultima battuta anche a Dennis Curti su come il mondo della fotografia che è un'arte che tu studi e ami io credo anche profondamente di fronte a questa a questa sfida ci sono dei punti in cui si vacilla dei punti di chiarezza perché il confronto tra come usiamo l'immagine e come il lavoro di Paolo Simonazzi che non ci suggerisce solo di riconoscere dei luoghi eventualmente li conoscessimo ma di entrare in quel mistero a cui lui vuole essere con una specie di finestra con lo suo obiettivo che ha aperto ecco nella fotografia c'è un tu vedi questa come vedi questa sfida questa anche lotta per una verità di dentro anche le tecnologie attuali ecco sì devo dire la verità che la la fotografia non l'ho detto io l'ha detto Zarkoski che è stato il direttore del dipartimento di fotografia del MoMA di New York io lo cito spesso ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito la fotografia è nata tutta intera cioè quando Daguer fa quel daguerrotipo dentro quel daguerrotipo c'era già tutto non abbiamo aggiunto niente certo che la fotografia ha fatto dei progressi tecnologici pazzeschi ma c'era già tutto dal daguerrotipo ad oggi non è cambiato niente sono cambiati gli strumenti ma c'era già tutto l'immagine Daguer ce l'aveva era un po' diversa però era un'immagine è riuscito addirittura a metterci dentro quello che voleva lui quindi io parto sempre da questo presupposto non è cambiato niente dall'invenzione della fotografia ad oggi e questo mi conforta e per dire che comunque indipendentemente dagli strumenti anzi adesso che questi strumenti sono diventati più democratici perché la fotografia digitale costa di meno e alla portata di tutti non devi stare lì a risparmiare sulle pose dei rullini perché costavano un sacco di soldi per farli sviluppare io continuo a vedere delle belle storie siedo sicuramente su una scrivania privilegiata perché dirigo dei giornali di... ma non le si conservano più ma no ma non è vero spariscono dei telefonini le foto una volta c'era l'album no però aggiungo questo continuo a vedere delle belle storie e quello che mi interessa dire è che se tu non hai una storia non hai niente no? non hai puoi avere la macchina fotografica più bella del mondo che ma non sei un autore e se non sei un autore e ha ragione il direttore è inutile neanche che le conservi quelle fotografie però badate bene che i miliardi di fotografie che vengono prodotte da tutti quanti noi però voglio rispezzare la famosa lancia ma non hanno nemmeno l'ambizione di farsi memoria ma perché le devi conservare? non servono a niente quindi ma perdiamole chi se ne frega ma gli autori stiamo parlando di fotografi che hanno delle idee che vogliono raccontare delle storie e che sono tali le conservano fanno duplicati su duplicati no? perché vogliono mantenerle le stampano perché se non è una storia non è niente io credo che la differenza sia un po' come gli chef tutti quanti noi cuciniamo perché mangiamo ci dobbiamo nutrire però non è mica tutti che vogliamo diventare degli chef alcuni diventano cuochi professionisti addirittura alcuni oggi diventano delle stare e così oggi tutti quanti facciamo delle fotografie perché è simile la similitudine col cibo è abbastanza più volte al giorno facciamo fotografie ma non tutti vogliono diventare fotografi quelli che lo vogliono diventare devono avere delle belle storie delle buone storie come direbbe Kappa da raccontare e sicuramente le conserveranno e io ne vedo tantissime perché non è vero che la fotografia è in crisi è in crisi come dire il destinatario finale è in crisi il mondo dell'editoria che non ha più le risorse economiche per pubblicare per comprare e per farci vedere quelle storie ma io vi assicuro che tra self publishing e che tra la rete eccetera io vedo delle storie meravigliose perché ovviamente i produttori di immagine sono aumentati esponenzialmente molti di questi ma veramente molti sono dotati di intelligenza sensibilità e capacità estetica notevole quindi io vedo delle cose meravigliose quindi mi immagino un futuro sempre più ricco per la fotografia e credo che mai come adesso la fotografia stia registrando un successo un interesse del pubblico enorme tutte le città insieme a Picasso e Frida Kahlo fanno delle mostre di fotografia perché fanno un pubblico fanno lo stesso quasi lo stesso pubblico e costano infinitamente meno e qui perché trasportare una foto di Cartier-Bresson o un quadro di Picasso insomma balla quel milione quindi la foto di Cartier-Bresson è un negativo per il quadro di Cartier-Bresson a volte presenti un exhibit copy Bene, grazie mi sembrava importante che queste ultime osservazioni sul nostro presente vorrei trattenere tra le tante cose anche mi ha colpito il senso del tempo e cioè mi pare che uno degli insegnamenti di Guareschi nella possibilità sua di raccontare storie così vive anche per il nostro presente appunto perché è pieno di un umano che pesca la vita all'interno del mistero del suo cuore presupponga un grande spirito di osservazione tempo di osservazione in genere se si guarda in silenzio qualcosa una terra una persona la si deve amare per guardarla per un po' di tempo e allora poi la si può raccontare credo che sia un po' il segreto della frase che Paolo Simonazzi ha voluto mettere in mostra tra le altre due che dice mi pare per scoprire il segreto della bassa non occorre guardare la terra quindi guardare da vicino guardare i propri piedi che è semplicemente per stare attenti a qualcosa cioè per non per non fare qualcosa bisogna guardare il cielo il cielo è è l'orizzonte è l'altezza del cuore che aspira e credo che questo nel lavoro di Paolo si veda e sia anche un po' una sintesi possibile anche nella fruizione di quest'arte in ultimo due aspetti di cronaca uno che è veramente tutto questo dunque è universale e la lingua che non abbiamo citato delle traduzioni di Guareschi me l'ha detta credo che vi sorprenderà uno dei fotografi di cui abbiamo dedicato le mostre negli anni scorsi che è Ragnar Axelson un islandese che ha fotografato le terre del nord dei racconti molto belli che andando nella Groenlandia da un vecchio comandante dell'esercito che era lì ormai a fare l'ultima vedetta norvegese ha visto nella sua casetta i limitari dei ghiacci tra i libri guarda e vede Guareschi tradotto in Inuit in Inuit e l'altra cosa è che siamo un po' partecipi anche di questo anno Guarestiano che inizia in questo prossimo mese perché qui svolgiamo il 28 mattina con il sindaco di Busseto con il presidente del comitato dell'anno Guarestiano di cui Michele Brambilla è parte di questo gruppo daranno annuncio alle iniziative di questo anno tra cui una che collaboriamo a svolgere con l'Università Cattolica di Milano e il professor Paccagnini una giornata di studi dedicata al confronto comparativo tra i film e le scritture di Guareschi dove avremo accesso agli inediti delle drammaturgie di Guareschi di Mondo Piccolo che non sono ancora state edite potremo studiare i manoscritti e Alberto Guareschi ci dà questo accesso e quindi questo anche livello universitario di studio del grande autore grazie a tutti voi ultimi cinque minuti per vedere la mostra grazie ai nostri relatori e all'autore buonanotte